Va Vedo tirar giù quello Dai vieni avanti prima tu Vabbè ma è un livello 3 quindi Oh vacca puttana Ma madonna Quanto cazzo Ma che cazzo gridi Dai vieni qua Vai adesso il toccate è brutta merda Toh Ma quanto cazzo era grande questo E porca puttana E' morto E' morto Adesso dove devo andare Apri la bottola Ah tieni in fronto Ma che amata Ma che è morto che muore ok, tavola chiudata, mi rimane solo questa da, muore, su quanti ne mancano ah, meno male perché stavo picchiaturo anche poleandro non so cosa serve, magari per qualche cosa dopo grazie al cielo, un goccino dai dammi un goccino oh, meno male questo si rialza oh, no usa la scala, no, non ci voglio spegniamoti tanto non serve un cazzo ah, ce n'è ancora uno su oh, aspetta un attimo che qua c'ha dendini che fanno sempre comodo ah, porca oh dai su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ah, non devo fare niente ah, non devo fare niente ok, devo andare qua lo sapevo, io cosa fa, me lo ricordavo che era sto stronzo sto stronzo sto stronzo, io me lo ricordavo oh, dammi un goccino di di red bull qua vai, questa è un'altra red bull cosa devo fare? ah, già qua eccolo qua viaggio veloce saltala annulla oh, un altro remo cosa devo fare? non mi ricordo cosa devo fare però no, che alcol, lascia stare l'alcol che... dove devo andare? dove devo andare? ho un'altra red bull wow, che cazzo devo fare? non mi ricordo vabbè, entriamo nel viaggio veloce dai viaggio ok, mi sa che questo episodio qua lo taglierò il secondo albero di abilità offre bonus di combattimento nuovi attacchi e altri potenzionamenti utili in battaglia vedremo per saltare questo filmato no, no, voglio vederlo stop right there stay where you are ah, siamo noi quattro hey hey, easy there friend we're not infected you're alive? no, non mi fai un cazzo no, non mi fai un cazzo cosa vuoi fare? ma... no, non dimmi che vuoi no, ma... aaaa, martello ti... martello ti vuole tanni 169 no, sti cazzo prendo ancora un po' di soldi prima di... ripara potenzio modifica ripara modifica no, modifica un cazzo cosa sto a fare? ah, devo mettere il straccio straccio valore 6 succo di limone valore 6 anestesiante valore 8 gaspara cendino filo spinato non fai un cazzo detergente filo dorante filo spinato cendino dura? no, c'entura il cazzo batteria 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 grande ok ah, quello giro è il mio deposito non... non ho venduto niente cosa devo fare? se fossi... raggiungi l'arena si, difficile no raggiungi l'arena media ma che cazzo è? tu devi stare solo zitto estrema facile, questa roba facile vado a prendere un martelletto lì che sceglia te lo spieghi, ti paghi e poi è il tuo ahhh si, dai fammi comprare qualcosa allora eh... pugnale e sile e da 240 dm martello voglio quel martello qua io mi manco così poco barra d'acciaio, batteria grande non ne faccio un cazzo il nostro isolante non ne faccio un cazzo il telefono ancora meno vendi sta fermo lì sta fermo lì allora prendiamo tutto che adesso glielo vendo a stupirla che magari mi da ok allora vendi ricompra il remo via alcol non alcol una bevuta ce la faccio batteria via batteria grande via detergente via quanto sto? quanto sto? 103 non la manca con un botto ah scusa aspettate qui un secondo eccomi ritornato e c'è anche sinter aprirgli la porta stavo facendo il live sei arrivato tu a rompere i coglioni quindi esattamente adesso ti vedi che martello che mi prendo devo arrivare a 900 lì adesso vedi che martello che mi prendo se riesco tutto via 888 ah che manca poco no chiedimi tengo succo di limone via cavo per 4 via 903 quanto costa? 981 non ci arrivo non ci arriverà mai ce la farà no per poco non ce la faccio guardalo ah no 83 si ce l'ho fatta ce l'ho fatta guarda che martellone mi prendo si vediamo che martello è equipaggio ma no no fail assurdo livello necessario 14 ma va a fare un culo va si the island si the island no che coglioni ma va a fare un culo va si questa qua mi sa che è la mappa quelle quelle bonus del gioco ma da ma io ho venduto il mondo adesso non posso neanche ma porca eh non saranno pubblicati nella classifica dato che non stai giocando il momento che si può continuare si si però sto video lo taglio perché mi sa che sarà siamo già anche a 20 minuti cioè sono già anche a 20 minuti caricamento provisto 2 anni 24 24 minuti sono si no ma lo taglio ma no ma ma questo volevo un martellone spibrante cos'è cos'è ah le orde ok qua mi sa che faccio un pacco di punti però questo è questo posto mambo posto allora è partita finita è morto sono arrivato alla fine adesso esco da qui e faccio un bel saluto generale usciamo 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 diamoci una mossa che ecco qua il video è finito ripartirò da qua la prossima volta e niente continuate a seguirci per chi ci segue già lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto bella a tutti da Crix ciao